Kingdom Come è una miniserie a fumetti edita nel 1996 dalla DC Comics. Quattro numeri, più volte riproposti in un unico volume, che potrete recuperare in varie edizioni. Da quelle deluxe, piene di contenuti extra, a stampe economiche, alla portata di tutte le tasche. Scritta dall'enciclopedia vivente Mark Waid e dipinta a gouache da Alex Ross, se dovete leggere un solo fumetto DC nella vostra vita, ecco, fate che sia questo. Chiariamoci, non è in assoluto la storia più bella mai scritta, tra l'altro fare le classifiche quando stiamo parlando di opere d'arte, per quanto popolari è già una bestialità di per sé, ma Kingdom Come è la rappresentazione plastica della morte dell'America idealizzata, quella del tacchino sulla tavola della Buick in Garage, utilizzando quello stile realista che caratterizzava, per esempio, l'arte di Norman Rockwell. Un'America che si interroga sulla propria forza e sulla legittimità dei propri metodi di dominio e lo fa attraverso la sua massima icona, la prima e più potente divinità del pantheon popolare statunitense, Superman. In un presente alternativo, i grandi eroi della Golden Age si sono tutti ritirati per lasciare il posto alle nuove generazioni. Solo che di eroico costoro hanno ben poco. violenti, irresponsabili e pesantemente armati sono sempre più difficili da distinguere dai villain. Ormai, per i comuni mortali, il pericolo più grande è la quotidiana battaglia che questi esseri potenti ingaggiano per puro capriccio rispetto a una possibile minaccia di un qualche genio del male. E proprio tra gli umani, il pastore Norman McKay si interroga sul perché questi potenziali angeli salvatori, questi semidei calati sulla terra da simbolo di speranza siano diventati il manifesto di un'America che ha perso i suoi valori e la sua fede. In tutta risposta alla fine dell'ennesimo sermone andato deserto, un essere soprannaturale gli appare per portarlo in un viaggio attraverso il mondo, allo scopo di capire che fine abbiano fatto i grandi eroi di un tempo. Si scopre quindi che un Superman vedovo conduce una vita solitaria in una simulazione della fattoria in cui è cresciuto. Wonder Woman è stata bandita dalla sua isola natale. Aquaman è impegnato a mantenere una pace precaria su un regno che si estende a tutti gli oceani. Flash ormai è trasceso ad essere pura velocità e un Batman spezzato nel fisico, ma non nell'ingegno, ha trasformato Gotham in una città-stato in cui fa rispettare la sua dura legge. Tutto questo finché la situazione non sfugge di mano ai nuovi eroi e quasi l'intero stato del Kansas viene raso al suolo durante una caccia all'uomo. Di fronte al genocidio del suo stato di adozione, Superman e i vecchi eroi si persuadono a riunire le forze per punire i colpevoli, ridare una bussola morale all'America e assurgere al ruolo di unici detentori di fede, libertà e giustizia. E chi non si allinea, non importa se villain o buono, verrà rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, battezzato Gulag. La prigione inevitabilmente si riempie in un attimo e diventa una polveriera pronta ad esplodere. A peggiorare la situazione, i classici villain, dismessi i panni colorati da super cattivi, hanno formato una società di oligarchi allo scopo di abbattere gli eroi. Le frange ribelli, guidate da un Batman macchiavellico e minaccioso, gettano lo scompiglio in entrambe le fazioni. E infine, il potere politico realizza quanto grave sia la situazione troppo tardi e si lascia andare all'intervento con armamenti pesanti. In tutto questo, il sempre più sbigottito pastore e il suo personale spettrale Virgilio attraversano i piani dell'esistenza commentando un'apocalisse imminente. Kingdom Come è in primis un atto d'amore alla storia dei comic book americani, dalla Golden Age degli anni 30 fino all'esplosione dark degli anni 90. Ogni pagina è infarcita di una quantità impressionante di dettagli che riconducono a fatti e personaggi degli oltre 90 anni di produzione DC. Può essere letto e amato da fan maniaco, ma anche apprezzato dal lettore occasionale. Perché Mark Waid conosce sia a memoria ogni dettaglio della cronologia dei fumetti, financo la marca delle mutande che Superman si ostina a mettere sopra i pantaloni e si diverte come un matto a dimostrarlo. Ma è anche un signor sceneggiatore e imbastisce una storia che oltre a quattro personaggi principali riesce a dare spazio a un cast enorme, fatto di eroi del passato invecchiati, di una seconda generazione di sidekick ormai cresciuti e maturi e infine una nuova leva arrogante e fracassona, ma che è così perché è stata lasciata sola a se stessa. Kingdom Come parla di conflitti generazionali, delle responsabilità di chi dovrebbe tracciare il percorso, ma deve anche considerare il libero arbitrio e la necessità per chi sta crescendo di compiere errori. Poi, se leggete questo fumetto, capirete The Boys, perché non ci sarebbe stata la dissacrante serie di Garth Ennis se l'opera di Wade Ross non avesse posto l'accento sul fatto che i supereroi sono esseri sempre più indifferenti verso i danni provocati dai loro scontri, e il più potente di tutti, Superman, è anche il più pericoloso perché non esiste nessuno che possa contrastarlo. D'altronde, lo diceva Ennis riguardo il suo Homelander, è l'incarnazione degli Stati Uniti, una entità dotata di poteri incommensurabili, ma emotivamente e intellettualmente immatura, che rade al suolo un intero paese per un capriccio e che porta una nazione all'inferno percorrendo una strada lastricata di buone intenzioni. Non sono sicuro che Wade avesse proprio questo in mente per la sua opera, ma è inevitabile che un artista dotato di sensibilità abbia interiorizzato le perplessità del suo paese. Durante gli anni 90, la politica interventista degli Stati Uniti continuava a crescere, convinta dai suoi presidenti di agire dalla parte del bene, ma dal gulag di Superman. Alla prigione di Guantanamo passano solo tre anni. Kingdom Come non è estrema come The Boys, ma rappresenta il crollo della fede che gli Stati Uniti hanno in se stessi. Il testimone di tutta la vicenda è un religioso guidato da uno spettro, come in un romanzo di Dickens. Gli USA sono un paese giovane, in cerca di un'identità, che nega la sua origine coloniale europea e genera una propria teogonia. E lo fa con quella pragmaticità che da sempre la contraddistingue. Innesta influenze bibliche in un immaginario pagano. Superman nasce plasmato sul mito del Golem. Will Eisner, il grandissimo autore, ipotizza che i supereroi abbiano avuto successo perché hanno raccolto il testimone dai fenomeni del circo, con le loro tutine attillate e i loro numeri contro le leggi della natura. Il forzuto, l'acrobata, il clown, il giocoliere, il domatore, il mangiafuoco. L'immaginario si sposta dalle fiere alla carta e negli ultimi anni anche al cinema. Ma il punto è sempre lo stesso. I supereroi sono chi vorremmo essere? I nuovi dei pagani. Frutto di una cultura schizofrenica e semplicistica che crede che basti un pugno o un missile ben assestato per risolvere ogni questione. E la religione non è altro che uno strumento per legittimare le proprie convinzioni. Ogni esercito afferma che Dio è con esso, ma in Kingdom Come, l'uomo di fede, il pastore McKay, finito assieme ad altri esseri ultraterreni, può solo assistere costernato a un'umanità che progetta il proprio annientamento. Poi gli eroi si affrontano come le bestie bibliche. L'aquila, il pipistrello, il bene, il male, Wonder Woman, Batman. Perché il vero dualismo riguarda loro due? Lui, novello duca Valentino di Machiavelliana a memoria, lei, dea guerriera, un po' Giovanna d'Arco, un po' Leti Macbeth. In questa storia che parla del fragile confine tra il senso di giustizia e la deriva violenta, le icone di virtù mostrano tutte le loro debolezze. E ne risulta che da un grande potere non derivano grandi responsabilità, ma solo un fardello che prima o poi ti schiaccerà. Nessun altro avrebbe potuto rappresentare al meglio la cosa del pittore Alex Ross. Kingdom Come è un fumetto non disegnato, ma dipinto. Non era certo la prima volta nella storia dei comics se lo stesso Ross aveva compiuto un anno prima un'impresa simile per la Marvel. Ma se le poche pagine a disposizione dei tuoi autori sono state sufficienti per rappresentare tutto quello di cui ho parlato e molto altro che devo tralasciare per questione di tempo, lo si deve alle straordinarie tavole che compongono questo fumetto. La capacità di cogliere e rappresentare le sfumature di un'espressione, l'uso drammatico della luce e la sapienza nel saper dire tutto di un personaggio con una sola inquadratura. In più c'è la capacità di dare un volto e un corpo reale a questi nuovi dei. Clark, Bruce, Diana sono dipinti partendo da modelli esistenti e l'opera trasuda realismo mentre mostra una schiera di semidei volanti, esseri supercorazzati che sollevano automobili e spiriti ultraterreni che viaggiano tra le dimensioni. Le tavole di Ross non possono non ricordare le illustrazioni dipinti di Norman Rockwell, il pittore che più di tutti ha saputo rappresentare gli ideali della società americana, quella del tacchino sulla tavola della Buick in Garage. Ma in Kingdom Come l'America ormai è un'altra. Il suo mito è diventato troppo grande, troppo potente e ormai è incontrollabile. E per scongiurare l'Armageddon è necessario ora che l'uomo prevalga sul superuomo.